Ora ti farò vedere una cosa proprio miracolosa, ti devi girare di schiena, io mostro al pubblico una previsione, ok? Questa è la previsione che la lasciamo qui in questo sacchetto vuoto. Adesso questa previsione la consegnerò a te e dovrai tenerla in mano, ok? Così, vai, ti puoi anche girare, tenla qua in mano. Ho un mazzo di carte e mostro al mio pubblico le carte che sono tutte quante ovviamente diverse, tutte carte diverse, una dall'altra. Adesso tu dovrai toccarne una, quella che vuoi. Questa, sei sicura? Fantastico, guarda, questa è la carta che tu hai toccato? Diela in questa mano, eh? Adesso sicuramente quella carta corrisponderà alla previsione. Gira un attimo la carta e mostra. E ovviamente hai scelto... Donna di cuori. La donna dei cuori. Mmh. La donna di cuori. Scusa un attimo. La donna di cuori. La donna di cuori. La donna di cuori. Prendi un attimo la previsione. La donna di cuori. Ah, infatti, veramente. Oh, veramente la previsione corrisponde. Fantastico. Scusa.